Il più grande produttore di cemento e cartongesso in Cina e di fibra di vetro di tutto il continente asiatico, la China National Building Material Company, ha fatto visita all'azienda Eugubina Colachem, un incontro proficuo in cui i titolari e dirigenti del gruppo Financo hanno ripercorso le tappe di una collaborazione iniziata ormai 20 anni fa con la società cinese, quotata alla borsa di Hong Kong con 200.000 dipendenti e operante in 97 paesi del mondo. Già con la ristrutturazione dello stabilimento Colachem di Ragusa e con altri interventi in altri impianti del gruppo Eugubino in Italia, Tunisia, Albania e Repubblica Domenicana, dove attualmente è in corso il raddoppio della linea di produzione, i due colossi del cemento avevano stretto importanti contatti che ora andranno ulteriormente ad intensificarsi. Questo infatti è l'auspicio dei vertici delle due realtà industriali che hanno approfittato della visita eugubina per confrontarsi su idee, progetti e future sinergie da attuare in svariati settori di innovazione tecnologica ed ingegneristica. Un evento conviviale al Parco Tella e Cappuccini e una rapida visita alla città di Gubbio hanno suggellato l'intenso e proficuo incontro cui faranno seguito a breve altri rendezvous.